Che facendo? Carico la sveglia. La prima pillola l'ha presa alle nove. E la seconda bisogna dargliela alle tre. E chi si alza alle tre? Tu. E perché dovrei alzarmi io? Perché io ho caricato la sveglia. Mussano. Ho sentito. E perché non ti alzi? Io mi devo alzare alle tre. Oddio, oddio. Un collasso? Alfonso, ti prego. Ci penso io. Scusi, venga con me. Vengo dall'aeroporto. Ci sono tredici. Non ti preoccupare, le blanche sono due. È rimasta a casa con i bambini, dovendo partire, avevamo lasciata libera la servitura. Oddio. Ho capito, cara. Scusa. Su, su, su. Si sieda. Sono desolato, contessa, ma devo operare d'urgenza. Arrivederci a tutti. Ho capito. Ma non mi hanno fatto entrare. È un'ambasciata. Hai capito? Il gatto ha chiesto a Silopolino. La finestra è chiusa? Perché? Crede forse che ci sia qualche pericolo? Pericolo di una polmonia, se c'è una filatura d'aria. Sto da affreddato, sa? Cosa cercavate? Cercavamo il gatto. Il gatto. Qui. Capisco che sia trattato di un equivoco, ma non posso farci niente. Prima non mi conoscevate. Forse era meglio. Ma ora mi conoscete. Questo è il guaio. Coraggio. Vadove la bocca. Che credi, deficiente, se la bomba non è scoppiata. Si, mi è caduta sul canale e me l'ha acciaccato. Ancora, ancora, ancora. Dai, che ci sei. Su, bello. Botta giù la bocca. E buttala. Grazie. Grazie di avermi salvato la vita e la pallaccia. Grazie.